ActiveTrades si rivolge soprattutto a una clientela retail, ma state assumendo una connotazione istituzionale. Quali sono le ragioni? Noi siamo nati come controparte sul retail, sul mercato del Forex, su prodotti OTC come CFD, Certificate for Difference. Ora stiamo assumendo una costituzione più istituzionale, probabilmente perché il nostro know-how e tutto il nostro apparato informatico ci sta permettendo di entrare in diversi mercati, tra cui anche attraverso il nostro MAM, il nostro sistema di multi-account, di presentarsi a una clientela più istituzionale per una gestione patrimoniale. Questo è un ottimo presupposto per il futuro di ActiveTrades e stiamo lavorando ormai da qualche tempo proprio per la realizzazione anche di questo progetto. Quali sono le previsioni sul fronte valutario, obbligazionario, azionario e quali consigli dareste ai vostri clienti? Sicuramente è molto arduo pronunciarsi, soprattutto con tutti i dati macroeconomici che stanno uscendo ultimamente, che sicuramente non sono molto confortanti. Ci sono molti problemi, sempre dal vecchio problema della parte debitoria di diversi stati, soprattutto in Europa. Ovviamente i dati americani non sono sicuramente confortanti, nei quelli europei. Sicuramente è difficile dire che cosa succederà per quello che riguarda il valutario, mentre sul mercato obbligazionario secondo noi potrebbe esserci un assorbimento da quello che è lo spread tra il BTP e tra il Bund, almeno sulla parte italiana, cercando di dare una sorta di fiducia ancora per quello che riguarda i mercati. Per quello che riguarda invece tutta la parte azionaria, è impossibile prendere posizione attualmente perché secondo noi il mercato continuerà ad essere laterale, soprattutto sulla parte europea e sicuramente su quella italiana. E quali consigli quindi daràste ai vostri clienti? Sicuramente di non prendere delle posizioni con delle leve molto alte, mantenersi sempre una leva molto precauzionale dal punto di vista di capitalizzazione, quindi essere sicuri di essere ben capitalizzati sul conto, soprattutto perché la volatilità sicuramente non ha cessato appunto di aumentare. Quindi bisogna mantenere sempre delle posizioni, cercando di avere un premio a rischio proporzionato per il capitale che si ha sui conti. Tra le novità che presentate per il 2012, quali sono le più importanti? Noi abbiamo diverse novità per il 2012, prima tra tutte siamo il primo bloccato ad essere sostituti in imposta. Questo è sicuramente in Italia, ecco ovviamente abbiamo appena aperto un ufficio a Milano, il 14 ottobre c'è stata l'inaugurazione in via Morgo Nuovo, saremo sostituti in imposta verosimilmente all'inizio di gennaio e questo ovviamente è un'ottima novità perché andremo noi a sostituirci alla clientela per quanto riguarda il pagamento della tassazione all'erario, soprattutto anche per l'asset class del Forex. Novità, abbiamo stretto degli accordi con i nostri istituti di ricerca per dare alla nostra clientela, anche in forma gratuita, diversi report finanziari, quindi siamo attivi nella informazione e anche nella formazione finanziaria attraverso i nostri website e abbiamo fatto degli accordi anche con delle società molto importanti, tra cui Molanis, che è una sistema per cercare di costruire qualsiasi voglia Expert Advisor Trading System, quindi sistemi automatizzati di trading senza sapere il linguaggio di programmazione, con un sistema del tutto grafico e molto semplice. Questo ovviamente tutto gratuitamente, uno dei nostri servizi migliori per il 2012. Grazie Samuele Larocca di ActiveTrades, arrivederci. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.